ciao a tutti eccoci qua questa prima lezione solo per spiegare cosa è Canva e cosa non è Canva cosa serve a cosa non serve perché molte persone non hanno ancora capito esattamente di cosa si tratta e fa confusione perché pensano che sia un'alternativa ai più importanti programmi di fotoritocco quando invece non lo è passiamo un attimo sulla schermata del mio computer così vi faccio vedere un attimino le impostazioni di base le informazioni più importanti per capire di cos'è passiamo di qua allora come vedete questo è il sito di canva.com ok esistono dei piani gratuiti quindi voi potete utilizzarlo gratuitamente e dei piani a pagamento diciamo che in linea di massima almeno all'inizio potesse provare ad utilizzarlo gratuitamente per capire un attimino cos'è però io vi consiglio di passare ad un un abbonamento pro che potrebbe essere un abbonamento annuo che costa 120 dollari che sono circa 105 euro oppure fare un abbonamento mensile quindi voi pagate un mese poi se volete pagare il secondo mese e decidete di farlo impostate il pagamento e pagate il secondo mese e così via chiaramente se pagate mese per mese vi viene a costare di più che pagare per tutto l'anno quindi dovete un attimino voi vedere cosa vi conviene io vi consiglio vivamente di fare l'abbonamento pro annuo perché alla fin fine sono circa 110 115 euro in un anno quindi sono meno di 10 euro al mese e avete in mano un software veramente potente e chiaramente canva vi regala anche il primo mese e quindi voi potete provarlo per 30 giorni una volta che l'avete provato con tutte le funzionalità è quasi impossibile che passiate che ritorniate alla versione gratuita perché vuol dire fare un passo indietro e non avere le funzionalità migliori ok comunque qui decidete voi cosa volete fare torniamo la schermata iniziale di della home a qui sotto vedete scorre un link dove vi chiedo di utilizzare questo link per iscrivervi ma perché questa cosa perché se utilizzate il mio link è praticamente canva e monitora il fatto che io stia cercando di spingere l'utilizzo del software e quindi mi riconosce una parte di quello che voi spendete se fate un programma pro per voi non cambia il costo il costo è sempre lo stesso però se utilizzate il mio link e canva mi dà una percentuale però voi siete liberi di utilizzare questo link o il link di base questo qui canva.com io chiaramente non vi obbligo a fare niente non è un problema questa era come vi dicevo è la pagina iniziale dove abbiamo la home page che è questa che vedete abbiamo ad esempio qua tutti i progetti che praticamente sono tutte le grafiche che io ho creato da quando uso canva quindi come potete vedere ce ne sono tante e rimangono tutte memorizzate online questo è importante voi non avete la possibilità di scaricare il file sorgente sul vostro computer ma solamente il risultato quindi se voi volete fare delle modifiche ad una grafica che avete fatto tempo fa dovete per forza essere connessi a internet entrare nel sito e dopo tramite la connessione internet potete andare a fare le modifiche poi scaricare il risultato nuovo del vostro lavoro questa è l'unica cosa che differenzia un po canva dai software classici che si che si installano sul computer ok quindi tutti i lavori rimangono sul sul loro sito però voi potete scaricare il risultato ogni volta che dovete fare una modifica vi dovete ricollegare al sito di canva poi qui abbiamo ad esempio il condivisi con te perché praticamente voi potete condividere un lavoro con altre persone o altre persone possono farlo con voi quindi potete praticamente accedere a questo lavoro solo in lettura o anche in scrittura per fare delle modifiche queste cose qui ci sono tutte le cartelle sono le cartelle che voi potete creare per dividere i vari lavori ad esempio con la versione gratuita potete creare solo due cartelle con la versione pro potete farne non avete limite sono infinite tornando un attimino ancora ai piani scusate serve per farvi vedere la cosa importante che differenzia tanto la versione gratuita da quella a pagamento diciamo che è un po questa voce qua la possibilità di rimuovere gli sfondi dalle immagini cosa significa facciamo finta che voi avete una vostra fotografia magari in costume da bagno che però siete in camera vostra perché vi stavate mettendo il costume ok quindi dietro avete i mobili della camera a voi con questa funzione potreste andare a cliccare la funzione la funzionalità rimuovi sfondo e viene presente verrebbe verrebbero tolti i mobili ci sareste solamente voi con un sfondo trasparente quindi voi potreste usare la vostra immagine poi e fare un fotomontaggio di voi al mare in piscina o cose del genere quindi è veramente molto molto potente e questa chiaramente è a pagamento quindi nella versione gratis non c'è e io vi posso assicurare che il 90 per cento dei lavori che ho fatto e che farò hanno bisogno di rimuovere lo sfondo ci sono altri software altri siti online che vi permettono di fare queste cose però dovete comunque prendere l'immagine con lo sfondo che non volete andare su questo sito rimuovere lo sfondo scaricare ritornare su camera in poi ci sono veramente tanti passaggi quando invece quello potete fare in un click e tornando praticamente nell'altra pagina allora come vi stavo spiegando e avete un po di voci qua sulla sinistra vabbè poi abbiamo il cestino quindi potete vedere le cose che avete eliminato i tuoi contributi vuol dire che praticamente e che se volete creare dei contenuti che poi volete vendere tramite canva li potete mettere qua e li trovate sotto questa sezione e poi qua ci sono tutta la questione del team non team del kit aziendale ma sono cose un po avanzate che non vado a spiegarvi adesso questo diciamo che è un po la base ok torniamo su e possiamo vedere che canva vi da già dei consigli ad esempio se volete creare un post di facebook vi propone di cliccare qua e se guardate vi da già la misura 940 per 788 pixel cosa significa che un post su facebook a queste misure e quindi voi non dovete andare a cercare su google le misure degli un'immagine di un post di facebook ve lo imposta già lui poi avrete dei diciamo dei template delle dei consigli che vi da canva che voi potete andare a modificare oppure potete partire da un template vuoto poi c'è la storia di instagram c'è il post di instagram c'è il logo ad esempio 500 per 500 vedete di solito il logo si fa quadrato si possono fare le copertine si possono fare i biglietti da visita anche cose cartacee per dire si possono fare anche dei curriculum dei siti internet queste cose le vedremo più avanti chiaramente il limite è alla vostra fantasia ma si può fare praticamente di tutto però cosa non si fa con canva cosa non è canva canva non è un software di fotoritocco e quindi ad esempio se voi voleste rimuovere non solo questo brufolino qui con canva non potete farlo se voleste smagrire la mia faccia o prendere non so una modella e renderla comunque più magra non lo potete fare con canva avete bisogno di software per il fotoritocco come photoshop o cose similari chiaramente quelle sono cose professionali e per usarle bisogna veramente avere delle belle basi mentre invece con canva non dovete per forza essere dei grafici dei grafici pubblicitari ma chiunque lo può utilizzare perché è veramente molto molto semplice ok quindi diciamo che vi ho dato veramente delle informazioni basilari su cosa è e cosa non è dai prossimi video entreremo più nel dettaglio faremo dei disegni insieme delle grafiche dei post e una volta creati i primi magari sarete voi che mi verrete a chiedere di fare una cosa specifica e la faremo magari anche insieme magari anche in diretta quello vedremo per il momento vi chiedo di iscrivervi al mio canale youtube di commentare questo questo video dirmi se vi è piaciuto o non piaciuto non c'è problema di attivare la campanellina in modo da poter ottenere in anteprima le uscite dei prossimi video e poi niente ci vediamo e ci sentiamo ok intanto vi ringrazio e grazie ancora e grazie per aver seguito questo video ciao a tutti